Ciao a tutti, sono Elle e benvenuti al mio canale. Oggi sono qui per raccontarvi la departure di Harry e Meghan dalla famiglia reale. Quello che dirò sarà preso dal libro Revenge di Tom Bauer che ci dà dei retroscena che sicuramente non sono presenti né nella docu-serie di Harry e Meghan né nel libro Spare scritto da Harry. Questo libro è stato pubblicato e finora è disponibile solo in lingua inglese diversi mesi prima rispetto alla docu-serie di Harry e Meghan. Per rispondere preventivamente a un'eventuale accusa sono solo voci. I fatti che qui vengono descritti da Tom Bauer sono gli stessi identici che poi Harry andrà a descrivere nel suo libro Spare, solo che da un altro punto di vista. Tom Bauer è un giornalista investigativo che ha preso numerose fonti. In questo caso la cosa era abbastanza pubblica, però si vede che ha degli insiders all'interno della Royal Family. E devo dire che c'è una cosa tra quelle che ho letto oggi che me ne ero quasi dimenticata. La mancanza di rispetto nei confronti della regina che tra l'altro aveva sempre cercato di essere buona nei confronti di Harry è astronomica. Vedrete alla fine perché vi ricorderete anche voi di una dichiarazione pubblica di Harry e Meghan su sull'uso del termine Royal dopo che gli era stato proibito. Qui siamo alla vigilia del Summit di Sandrigam che è quello in cui si è concretizzata la Brexit. Meghan e Harry nel mentre sono andati a Vancouver e già allora era strano che dei reali andassero così tanto tempo all'estero e pensassero di stabilirsi lì. Meghan era furiosa che le sue richieste non venissero accettate. Si sentiva bullizzata, abbandonata in quanto tormentata dai media e mal difesa. Non è che fosse una finzione questo atteggiamento. Lei siccome se avete sentito tutto il resto del riassunto di questo libro Tom Bauer ci parlava dell'infanzia e della giovinezza di Meghan, della sua scalata al potere molto ambiziosa, lei era profondamente convinta che chiunque la criticasse meritasse di essere messo all'angolo e fuori dalla sua vita. Perciò figuratevi lei con tutta la stampa inglese soprattutto che l'era andata addosso era convinta che chiunque le voleva bene o stava dalla sua parte, in questo caso avrebbero dovuto essere i membri della famiglia reale, avrebbero dovuto difenderla e questo rifiuto della critica è tipico sia di Harry che di Meghan. Di nuovo se voi pensate è opinabile che sia così vi invito a riguardare Harry e Meghan alla docuserie andate a cercare un singolo punto in cui abbiano detto che qualcosa era colpa loro, sempre colpa di qualcun altro e anche in spare. Harry a parte che è rancoroso e si ricorda ogni singola cosa che è stata fatta contro di lui negli anni mai pensa che sia stata colpa sua in un qualche modo quindi vi invito a rileggere questi libri questo libro e a riguardare questa docuserie secondo questa ottica, se vi va potrete verificarlo da voi. Comunque Tom Bauer ci dice Meghan era così arrabbiata perché si sentiva appunto abbandonata dalla famiglia reale, non trattata a dovere, soprattutto considerato tutto quello che lei aveva portato di positivo in questa istituzione. Di nuovo non ascoltate me, guardate la docuserie, c'è un'intera puntata dedicata a quanto Meghan fosse rappresentativa del popolo del Commonwealth, a quanto William e Kate o comunque qualcun altro fossero gelosi di loro, adesso non so se questa informazione era in spare, comunque sono dichiarazioni ufficiali della coppia. Lei la pensava proprio così che in realtà non la valorizzassero a sufficienza e quindi siccome non stavano recependo le richieste che lei e Harry avevano, ovvero quelle di vivere all'estero guadagnandosi un po' i loro soldi, facendosi un po' i cavoli loro, però continuando a usare i titoli di reali, Meghan secondo Tom Bauer ha deciso che qualunque negoziazione che verrà fatta con la famiglia reale deve essere pubblica e quindi liccherà delle notizie che dovrebbero essere riservate. I suoi agenti americani, quelli con cui lei è rimasta in contatto sempre ma con cui ha avuto grandi relazioni soprattutto nell'ultimo periodo perché aveva già deciso di andarsene, la incoraggiano perché le dicono negli Stati Uniti tu avrai una fama, tu voi, tu e Harry avrete una fama simile a quella degli Obama, guadagnerete milioni di dollari grazie al vostro status reale e il primo passo è una grande intervista da rilasciare ad opera. Meghan voleva sfogarsi contro i valori britannici così arretrati che le impedivano di agire. Tom Bauer usa un'espressione can do culture ovvero cultura del fare, del posso fare qualunque cosa. Il sogno americano del puoi partire dal nulla e arrivare al basso e lei si aspetta che ci sia una battaglia mediatica nella quale lei risulterà vincitrice Hollywood contro i Windsor. Diciamo che in una prima battuta effettivamente stavano per la maggior parte, tanta gente stava dalla sua parte e adesso direi che le cose si sono ribaltate. Comunque questi agenti perché le incoraggiavano? A parte perché in parte era vero nel senso poi hanno preso dei contratti milionari ma era tutto al loro vantaggio perché se loro le procuravano quei contratti si procuravano anche la commissione. Con lei che se ne stava dall'altra parte dell'oceano non guadagnavano una lira o un cento. Il suo pubblicitario e uno dei suoi publicist aveva già pronto un video in cui si sarebbero mostrati Harry e Meghan in tutto il 2019 nelle attività che avevano messo in atto. Un video da mostrare nell'account Sussex Royal su Instagram dopo il divorzio dalla famiglia reale. La coppia aveva detto che voleva continuare a collaborare con la regina perseguendo un'agenda progressista al di fuori della Gran Bretagna e notare che alla fine comunque questo divorzio si è concretizzato a pieno titolo. Adesso stanno collaborando con la corona. La regina al tempo rappresentava la corona, adesso c'è Carlo. Non fanno un accidente perché non sono più working royals. Saluto tutti quelli che sono in diretta poi vi risponderò alla fine. Harry è convinto e di nuovo per farvi capire come Tom Bauer lo capiva già allora, già prima di vedere tutte le dichiarazioni pubbliche che abbiamo visto noi stessi, è vero. In spare Harry ha detto che quando è andato al meeting di Sandrigam a negoziare come si sarebbe svolta la loro uscita dalla famiglia reale, lui era convinto che avrebbero accettato parte delle sue richieste. E infatti in spare Harry ci dice che invece, vi ricordate che si era fissato sul fatto che gli avevano messo un solo documento che era un ultimatum in mano mentre in realtà lui pensava che ce ne fosse un altro a seconda di come lui si poneva e gli avevano mentito dicendo che quel documento non l'avevano stampato perché non c'era, la stampante non funzionava e lui poi era andato a chiedere fammi vedere la stampante che non funziona, vabbè perché non l'aveva mica capito. Comunque il padre in effetti prima di andare al meeting di Sandrigam scusate e anche questo carrello conferma gli chiede di mettere per iscritto le sue richieste e lui non voleva farlo perché come dice in tutto sperlo, lui temeva che ci fosse una persona che liccava le notizie all'interno della famiglia reale, si sentiva perseguitato. Però scrive comunque queste richieste. Che cosa chiedevano? Lo avrete già letto in tanti giornali ma ecco qui ricordiamo punto per punto. Volevano tenere Frogmore Cottage come casa alternativa in Gran Bretagna? Volevano continuare ad avere una protezione 24 ore su 24 delle guardie del corpo pagate dai contribuenti britannici, anche se Carrie ti dirà che in realtà i reali portano talmente tanto indotto all'economia britannica che al netto in realtà il britannico medio paga un centesimo all'anno per i reali. Intanto però nei conti esce dalle tasche delle tasse dei britannici. Comunque, quanto costava? 2,5 milioni di sterline. E poco non è. Voleva continuare a ricevere dal padre il suo stipendio come working royal, come membro attivo della famiglia reale, che equivaleva a 1,5 milioni di sterline. Il padre glieli dava dal ducato di Cornovaglia a cui lui sovraintendeva. Questo ducato adesso è passato nelle mani di William. In cambio che cosa offrivano i Sussex? In cambio di questi privilegi, di questi soldi? Sarebbero occasionalmente tornati in Gran Bretagna e inoltre avrebbero continuato a rappresentare la monarchia dal Canada. Ora, valutando questi fatti nella bilancia, viene da dire che tu vuoi tutto ma stai offrendo solo briciole in cambio. E inoltre ti metti anche a dire sì, serviamo la monarchia dalla Gran Bretagna? Ma no, devi servirla dalla Gran Bretagna e quando te lo diciamo noi perché è un lavoro. In tutto spero Harry dice e in parte ha anche ragione, nel senso non è un lavoro che ho scelto io. Non ho potuto dire in un momento della mia vita lo voglio. E inoltre la tesi di Harry era questo è l'unico lavoro che mi avete permesso di fare per il diritto di nascita che ho perché non posso vivere in pace e adesso mi volete anche togliere quei soldi che mi spettano perché io non posso reinventarmi. E infatti secondo me è così che si giustifica con tutte le interviste che ha dato perché è l'unico suo modo di guadagnare. Comunque Carlo, dopo aver letto questo documento, vuole più dettagli ulteriormente e Harry capisce che c'è qualcosa che non va, prova a rivolgersi alla regina, anche questo lui lo dice in spare, ma la regina gli dice di parlare con gli ufficiali di palazzo, col padre, che lei non c'entra in questa cosa. La regina era molto legata a sua nipote, però, ci dice Tom Bauer, in realtà il modo in cui Harry si stava ponendo aveva fatto costituire un'alleanza non inedita, però in quel caso era particolarmente solida, formata da un trio, dalla regina, da Carlo e da William. E di solito la regina si metteva dalla parte di Harry quando si trattava di concedergli le cose, anche da sparsi percepisce che lui è convinto che se va da lei direttamente lei glielo dà quello che vuole. In questo caso però la regina sta ascoltando William e Harry e Carlo. Harry è convinto che lei sia mal consigliata e soprattutto che qualcuno le abbia parlato male di lui e della moglie. Non la riteneva in grado di ragionare, uno potrebbe anche dire sì, magari è una donna vecchia. Tom Bauer ci stava dicendo, sì ma era ancora bella attiva mentalmente, sapeva quello che stava facendo. Soprattutto sapeva che cosa stavano facendo Harry e Meghan. Siamo nel periodo immediatamente dopo il Natale, siamo già nel 2020, e Harry è molto frustrato perché le loro richieste in merito a lasciare la Gran Bretagna sono state linkate ai media e in particolare a un giornalista, Wooton del Sun, che però non riesce a far pubblicare la notizia dal giornale perché in quel momento lui non si trova in Gran Bretagna ma è in Nuova Zelanda e il giornale al telefono non vuole rischiare questa cosa. E Harry nel libro Sper ci dice, è stata Camilla o è stato qualcuno perché lei ha amicizie nei giornali e io so che quando mi chiedono le cose per iscritto perché me le ha chieste per iscritto, perché voleva farle vedere a qualcuno. Tom Bauer ci dice, lui al solito si sente un perseguitato. In questo caso darei per vera la versione di Harry al 50 e 50 e non direi neanche che è stata Camilla. Potrebbe persino essere stato Carlo stesso. A suo tempo vi dissi che la razio secondo me era molto semplice. Questa era una mossa che coinvolgeva i contribuenti britannici e la Corona voleva sapere come la gente avrebbe reagito alle richieste di Harry perché non potevano permettersi di perdere la reputazione o la faccia per lui. Tra l'altro non erano pure l'erede al trono diretto e quindi volevano avere un parere delle persone. Secondo me sì, lo hanno liccato loro. Tom Bauer però ci dà un'ulteriore versione, ovvero che secondo lui addirittura l'ha liccato Megan, ovvero non lei direttamente ma i suoi agenti a Los Angeles perché come vi diceva prima Megan voleva che gli accordi, quello che stavano dicendo, fosse pubblico. Cioè magari che lei l'ha liccato pensando, visto quanto sono cattivi con noi e quello che noi vogliamo solamente. In realtà questa cosa all'inizio, nei primi giorni, non esce perché appunto Vuitton, questo giornalista qui, non riesce a convincere il giornale a pubblicarlo. Però Harry è molto scocciato. Harry arriva a Londra il 6 di gennaio e anche questo era presente in Sper, lui cerca di andare a trovare sua nonna direttamente, vuole parlarci. Sa che se ci parla direttamente il suo cuore di nonna si scioglie e lei lo accontenta. Però la regina gli dice che no, non vuole vederlo, o meglio gli dice Scusa, c'è un appuntamento di mezzo, non riesco più a vederti e parla con il mio segretario. E quando Harry ci descriveva questa cosa nel suo libro, lui cercava sempre di mettersi come vincitore morale di ogni conversazione e lui aveva provato a chiedere alla nonna spiegazione e la nonna se n'è venuta fuori con una spiegazione del cavolo che lasciava capire che in realtà non era vero che avesse un appuntamento ma non voleva vederlo. Era arrivato Harry con Meghan a Londra lasciando il bambino in Canada. Una puntatina, lì solo per parlare con sua maestà. Harry parla col segretario della regina e dice Guarda, per la mia pace mentale, o almeno questa è la parafrasi che ne fa Tom Bauer, noi dobbiamo annunciare che lasceremo l'Inghilterra per sempre. E quindi io te lo sto dicendo, questo segretario privato della regina, Edward Young, prova a convincerlo a non farlo perché non puoi dire questa cosa in giro senza prima averne parlato con la regina. E Harry dice ma non mi vuole vedere, quindi no. È mal consigliata e loro decidono di uscirsene con questo comunicato. E non fanno neanche in tempo perché la notte prima il sana se ne esce con la esclusiva su Harry che lascia la Gran Bretagna con la richiesta insomma alliccata. E il giorno dopo, la mattina dopo, Harry e Meghan vanno in visita all'ambasciata canadese o meglio alla Canada House, non so se sia l'equivalente, per ringraziare il governo canadese di aver offerto loro un santuario soprattutto per la sicurezza concessa perché in quel momento i soldi per la sicurezza di Harry e Meghan mentre loro stavano in Canada, uscivano dalle tasche dei contribuenti canadesi, del governo canadese che comunque aveva ancora, ha ancora come un sovrano, fa ancora parte del Commonwealth quindi dovevano farlo. Tom Bauer ci dice sì sì sono andati lì ma era tutta una bella opportunità fotografica, un'opportunità per un servizio fotografico per essere ripresi perché i due appunto decidono basta andiamo online con questo annuncio non abbiamo intenzione di aspettare oltre. E adesso ve lo faccio vedere proprio l'annuncio in questione scusate eccolo qui su Instagram Sussex Royal con quella foto lì scelta da loro traducendo dopo molti mesi di riflessioni e discussioni interne abbiamo scelto di dar vita a una transizione quest'anno nell'iniziare a costruire un ruolo più progressista all'interno di questa istituzione intendiamo fare un passo indietro come membri senior della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti tutto ciò mentre continuiamo comunque a supportare pienamente sua maestà la regina ecco il vostro incoraggiamento si rivolgono al pubblico particolarmente quello che abbiamo ricevuto negli ultimi anni che ci stiamo preparando a fare questo cambiamento ora abbiamo in mente di dividere in maniera equilibrata il nostro tempo tra la Gran Bretagna e il Nord America tutto ciò continuando a onorare il nostro dovere nei confronti della regina del Commonwealth e delle cause che patrociniamo questo bilanciamento geografico ci permetterà di far crescere nostro figlio con un apprezzamento per la tradizione reale nella quale è nato nel mentre provvede dando alla nostra famiglia lo spazio necessario per focalizzarsi sul nuovo capitolo includendo il lancio della nostra nuova entità caritatevole la nostra iniziativa di carità non vediamo l'ora di condividere con voi tutti i dettagli di questo nuovo eccitante passo nel nostro percorso mentre continuiamo a collaborare con sua maestà la regina terza volta che lo dicono questa volta aggiungono anche però il principe del Galles in questo caso si riferivano a Carlo e il duca di Cambridge, William e tutte le parti rilevanti secondo me con parti rilevanti intendevano tipo Kate fra virgolette fino ad allora per favore accettate i nostri più sentiti ringraziamenti per il vostro continuo supporto il duca e la duchessa di Sussex e quindi questa cosa l'avevano detta? senza consultare la regina senza ancora aver discusso e i giornali lo sapevano immediatamente che se ne erano venuti fuori così per via di quelli che delle loro richieste anche perché il palazzo all'inizio ha reagito dicendo praticamente una sorta di dobbiamo pensarci cioè adesso arriviamo con un nostro comunicato ma non ce l'avevano ancora sotto mano e figuratevi se fosse stato concordato col palazzo il palazzo avrebbe fatto uscire subito una risposta e invece non c'era e quindi si è capito immediatamente che è stata una mossa fatta alle spalle una coltellata pugnalata alle spalle la regina poi rilascia un comunicato ma diversi giorni dopo nel mentre analizziamo un attimo questo comunicato come noterete Harry e Meghan parlavano di Nord America e in teoria si pensava il Canada anche perché Meghan aveva dichiarato che lei negli Stati Uniti non avrebbe più messo piede finché ci fosse stato Trump cosa che si rimangerà pochi mesi dopo però in realtà il Nord America era ben scelto perché per la serie Meghan pensava già di andarsene negli Stati Uniti nel mentre Meghan se ne va il giorno dopo cioè torna in Canada perché le reazioni che si stanno avendo sulla stampa sono delle peggiori dicono che lei sta tenendo Harry in ostaggio sta spezzando la relazione di un nipote con la regina William è deluso e infelice Carlo è esasperato Buckingham Palace vi dicevo dichiaro di aver bisogno di tempo per creare un comunicato di risposta e nel mentre i giornali iniziano a parlare di Maxit che Harry definisce un termine misogino un abuso nei confronti di una donna bla 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 perché lui difende Meghan a prescindere il che in sé allora senza avere più informazioni poteva avere un senso ok perché un marito che difende la moglie che decide di seguire la moglie o prendere delle decisioni insieme alla moglie non si può dire a prescindere hai sbagliato anche se in effetti quelle richieste lì sembrano dire ok vuoi fare la tua vita ma intanto vuoi che te la finanzino gli altri e che non vuoi avere doveri vuoi avere solo gli onori molta gente sapendo del leak e quindi delle richieste comincia a dire ma esattamente in cosa sarebbero progressisti ecco qui c'è il dietro le quinte invece di che cosa è successo a Palazzo Reale nel senso che a discutere effettivamente su cosa verrà fatto con l'aiuto dei ufficiali di Palazzo ma di fatto chi ne parla davvero sono in tre Tom Bauer ci dice che erano la regina Carlo e William che non volevano apparire vendicativi perché sapevano che avrebbe avuto sarebbe saltato fuori male nei media però però allo stesso tempo proprio perché avevano visto come aveva reagito il popolo pensando oh noi dobbiamo pagare questo qui che se no vada un'altra parte erano molto fermi sul fatto che i contribuenti britannici non dovevano sentire come un peso il finanziamento dei Sussex se i Sussex non avevano più intenzione di essere continuamente al servizio della famiglia reale o comunque non impegni seri Tom Bauer ci diceva che in realtà in tutto l'anno precedente nel 2019 Meghan aveva già fatto i capricci in questo senso lei diceva perché sono incinta e in effetti si potrebbe anche dire ma anche da prima lei non voleva i compiti reali minori la principessa Anna la figlia della regina ad esempio si prendeva questi questi impegni reali in che non avevano grandi fotografie né niente ma Meghan voleva solo gli impegni più importanti e di nuovo non era il suo marito mica era l'erede al trono quindi perché non puoi essere come tutti gli altri della famiglia reale sempre in sper noi leggiamo che e ci sta l'ambiente comunque della famiglia reale era un pochino tossico o forse meglio affollato cioè che i membri della famiglia reale competevano per gli impegni quindi se tu entri in una famiglia così numerosa in cui ci sono già non dico pochi impegni ma i pochi importanti vengono riservati ovviamente ai più importanti e se le litigano un po' tra loro non puoi pretendere di fare la stare ovvio che starei antipatica a tutti quanti e questo era quello che faceva Megan ci dice Tom Bauer sempre William Carlo e la regina ma immagino soprattutto William e Carlo pensano ma se vogliono fare questo passo in avanti così progressista perché continuano a volersi far chiamare vostre altezze reali alla fine sono d'accordo comunque su una cosa ecco questa frase è molto importante non possono permettere lo sfruttamento incontrollato da parte dei Sussex dei loro titoli e privilegi sono preoccupati soprattutto leggendo il comunicato che hanno fatto Harry e Megan in merito alla frase vogliamo lavorare per essere finanziariamente indipendenti perché Tom Bauer ci dice loro hanno capito benissimo Megan e cioè che una focalizzatissima sul denaro infatti magari l'avrete sentito era uno non era uno scoop recente in realtà era una cosa che Carlo aveva già detto c'era persino in spare Carlo ha detto a Harry quasi fin dall'inizio prima che si sposasse con Megan che lui non avrebbe mantenuto Megan e detta così sembra una cosa cattiva Harry aveva detto cioè non è che spende così tanto in realtà si spendeva così tanto davvero 27.000 sterline al giorno o dollari al giorno per un per del vestiario nei casi più eccezionali ma per farvi un paragone Kate per il vestiario per il guardaroba all'anno spendeva 100.000 sterline l'altra in un giorno 27.000 in un quarto di quello che Kate spendeva in 365 giorni quindi sì c'era un problema di denaro e forse per questo Carlo aveva detto questa cosa a Harry perché lui la dicessi a Megan secondo me volevano tenere lontano una donna vedere se lei reggeva al test della fedeltà sapendo che non ci sarebbero stati soldi e che non l'hanno capita lei era arrivata così in cima così vicino alla summit che aveva sempre sognato ovvero questa fama mondiale che non l'avrebbe abbandonata per nulla al mondo lei pensava piuttosto che sarebbe riuscita a trasformare la monarchia e nel mentre però il palazzo ovvero sempre Carlo William e la regina hanno fatto delle ricerche cioè sono convinti che Megan voglia monetizzare la monarchia e in effetti sta succedendo nel senso che hanno scoperto che hanno creato questa fondazione in America Sussex Royal i reali di Sussex e stanno per creare del merchandise con il loro logo Sussex Royal Sussex Royal cioè cos'è questa poracciata Bauer cerca di quantificare più o meno quanti soldi avevano Harry e Megan in quel periodo lì dice secondo lui Harry aveva ereditato 27 milioni dalla madre dalla regina insomma forse dallo nonno lui ci diceva invece e altri report hanno detto che dalla madre aveva ereditato quando era piccolo 12 milioni che erano stati messi in un trust fund e probabilmente col tempo erano 20 Harry poi ci dice anche che lui in realtà quei soldi non li voleva toccare più di tanto perché vuole lasciarle ai suoi figli quindi non erano soldi che lui sentiva di avere Megan quanto aveva secondo Bauer probabilmente risparmi un milione qualcun altro aveva detto nel tempo probabilmente era guadagnati anche 4 grazie a Schutz che per cui veniva pagata anche 175 mila dollari episodio nell'ultima stagione le stagioni erano state un po' quindi forse però sapevano anche che spendeva così tanto che era ancora in affitto credo forse si era comprata la casa poco prima di conoscere Harry lei stava ancora condividendo il tetto con un altro uomo vabbè le intenzioni del palazzo sono chiare vogliono mentre che si preparano a questo mentre si preparano a questo meeting di Sandrigam per discutere di come la cosa si risolverà l'idea è ok cerchiamo di non dar loro troppo fastidio perché vogliamo che siano leali alla corona però dobbiamo al contempo impedirgli di parassitare i contribuenti britannici hanno persino discusso ci dice Tom Bauer di togliere il titolo a Meghan però poi hanno deciso di non farlo perché questo avrebbe dato voce a chi credeva che lei fosse vittima di razzismo di misoginia e pregiudizio di classe non si è mai parlato di togliere il titolo a Harry perché comunque non si può lui è nato principe era sarebbe sempre stato principe siamo il 13 di gennaio Harry arriva a Norfolk ed è il meeting di Sandrigam ci va da solo perché la famiglia non la voleva vedere neanche dipinta sul muro Meghan lui chiede che Meghan possa assistere al summit via Zoom insomma tra l'altro ci avviciniamo al periodo del covid della quarantena covid quindi figuratevi c'era già questo sistema ovviamente i reali dicono di no no non può assistere via Zoom ma perché sembra un'altra cattiveria in realtà guardate fino a che punto non si fidavano di lei erano convinti che lei avrebbe fatto vedere il loro incontro di nascosto a qualcun altro l'avrebbe fatto ascoltare o peggio e avevano ragione l'hanno capita benissimo da questo punto di vista pensavano che avrebbe registrato l'incontro e quindi poi avrebbe usato le loro parole contro di loro ci hanno fatto una docuserie in cui hanno usato le loro parole contro di loro quindi hanno fatto benissimo e a palazzo erano convinti che nonostante tutto Harry e Meghan vabbè in quel caso Harry come portavoce di entrambi avrebbero stati un po' concilianti avrebbero voluto cedere su qualcosa considerato magari anche come il pubblico aveva reagito all'idea di finanziarli sono anche convinti che Meghan controlli Harry Bauer ci dice e ha ragione lui nel senso che anche se fosse così Harry però è personalmente convinto di tutte le cose che sta chiedendo e lo sostengo anche io non puoi manipolare non puoi cambiare un uomo che non vuole essere manipolato Meghan ha trovato terreno fertilissimo in Harry facendo leva sul suo senso di vittimismo sul non aver trovato il suo posto nel mondo sul oddio non mi hanno mai considerato abbastanza perché mi hanno considerato spare poi ha premuto su questi tasti con lui però nel mentre lui le pensava in prima persona queste cose quindi non stavano discutendo solo con Meghan e Harry è convinto di poter parlare con la regina adesso che ci parlare di persona di poter farle cambiare idea come è accaduto sempre e invece e di nuovo questo lo vediamo anche in spare si trova davanti un ultimatum e scopre che il metà dentro il metà fuori che vogliono lui e Meghan è impossibile lui viene colto di sorpresa dalla linea dura che sceglie la sua famiglia e gli dicono una cosa con cui sono d'accordissimo cioè gli fanno capire questo guarda sei tu che lavori per la monarchia non la monarchia che lavora per te e sì perché a parte che pure lui la intende un pochettino così ma soprattutto Meghan la intendeva così la monarchia serviva a elevare lei non viceversa si è comportata così e gli dicono anche molto chiaramente se te ne vai i soldi che ti diamo quelli il milione e mezzo di sterline che prendeva dalla ducato di cornovaia dal padre piano piano ti verrà decurtato fino a sparire per sempre anche i tuoi impegni ufficiali non te li demo più perché non non pensiamo che li meriti e inoltre non potrete fare gli ambasciatori di aziende private facendovi pagare perché no non siete duchi se volete farlo fate come privati i cittadini scusate adesso voglio ammazzarmi ma io devo alzarmi o no un attimo perché ho attaccato il compito e se ecco qui lo devo attaccare se no si stava per spegnere tutto quanto in un istante yeee per fortuna non è accaduto proprio nel momento cruciale ma ricominciamo e inoltre ed era la cosa che Harry ha detestato di più gli hanno detto se te ne vai non avrai più la protezione della polizia Harry poi Tom Bauer lo sapeva già dice che si è offerto di pagarla lui sì io penso che non l'abbiano accettato perché era comunque una cosa complicata i soldi sarebbero comunque usciti sempre era polizia metropolitana la polizia dello stato prima i contribuenti la pagano lo stesso come come fanno i soldi di Harry da arrivare probabilmente c'era un modo però era complesso e di fatto i soldi sarebbero sempre usciti prima dallo stato era una questione di principio tra l'altro Harry voleva la protezione della polizia metropolitana perché qui sta il giochino la polizia di stato costava molto meno 2 milioni e mezzo di sterline tantissimo ma molto meno quella privata si è fatto una stima anche in spero se non erro 6 milioni di dollari all'anno che sarebbero cosa 5 milioni di sterline non so se vale ancora questo cambio il doppio privato soprattutto in america costa tantissimo e pare che lui comunque lo stia pagando questo costo e Harry dopo aver sentito la sua famiglia che gli pone queste condizioni si sente punito me ne sto andando sto cercando la mia libertà e voi non capite ed è come se voleste punirmi questo anche se sa che il pubblico inglese è diviso sulla questione perché oramai siccome la sua lista di richieste è stata liccata si sa come reagirà la gente forse forse anche vi dicevo prima forse la famiglia reale voleva sapere come la gente avrebbe reagito per per capire come comportarsi nei confronti di Harry ma è possibile anche che volessero che abbiano liccato loro se sono stati davvero loro non si saprà mai questa lista alla stampa per dare un messaggio a Harry cioè guarda come reagisce la gente non hai ragione tu è possibile perché sicuramente a palazzo in Inghilterra non sono dei puri un editorialista del Sun che tra l'altro al tempo in cui Harry e Meghan si sposarono era dalla loro parte ha cambiato completamente idea e scrive in quel periodo che ha fatto la regina di male per meritarsi questo trattamento penoso dice anche Harry e Meghan sono tra i reali che sono stati più adorati in assoluto e ora è triste sapere che saremo in tanti in milioni di persone a essere felici di vedere che se ne vanno perché non hanno fatto niente per meritarsi comunque il nostro affetto altri giornali dicono abusano della generosità dei contribuenti britannici vi faccio vedere i giornali in questione ecco per esempio dei titoli lì a destra il titolo è they didn't even tell the queen non l'hanno nemmeno detto alla regina dopo quando hanno rilasciato la loro la loro dichiarazione su Instagram gli americani invece dicono Maxit Meghan e Harry lasciano i reali per una vita da persone comuni vedete come se fossero diventati dei poveracci sono soprattutto i britannici che hanno un'opinione comunque negativa di Harry e Meghan mentre invece gli americani sono tutti pro Meghan anche perché non conoscono il contesto della famiglia reale per loro è una cosa carina però antiquata loro se sconoscete gli americani sono bravissime a criticare il resto del mondo e a vedere le cose da un unico punto di vista e loro per loro ragioni comunque sono molto focalizzate sulla questione razzismo lo vediamo tutti i giorni nei loro prodotti di intrattenimento e non solo e loro sono convinti che che la famiglia reale sia nel torto che l'unica colpa di Harry sia stata quella di aver preso come moglie un'americana con un background birraziale una editorialista credo del New York Post ma forse di qualche altro giornale dice sappiamo tutti che è perché Meghan è nera tutti noi persone di colore lo sappiamo che è così e sappiamo che anche non importa quanto una possa essere bella in quale palazzo vada a vivere quale fondazione di beneficenza supporti o tutte le cose buone che ha fatto nella sua vita in questa società il razzismo ti seguirà fino alla fine del mondo Tom Bauer da una risposta a cui devo fare un attimo le pulci cioè lui dice tutti questi a dire che è razzismo però poi nel loro talk show nei loro discorsi non citano un solo episodio specifico di razzismo e potremmo anche dire che in effetti quando Meghan ha detto sono stati razzisti verso di me ha saputo solo dire quella questione della hanno chiesto di che colore sarebbe stata la pelle del mio bambino però qui mi sento di dire che in effetti il razzismo a volte non si esprime con episodi specifici con insulti così è troppo facile si esprime purtroppo devo usare le parole di Harry con pregiudizi consapevoli o inconsapevoli che comunque portano a limitare le possibilità delle persone di colore quindi capisco perché in America non cercassero di dare esempi specifici di come Meghan era stata trattata male per il fatto di essere nera posto che poi Harry li dà nel suo libro esagerando nel senso che sì ci sono state per esempio quella vignetta in Gran Bretagna in cui era stato paragonato Archie a una scimmia cioè una roba è razzista però infatti il Parlamento mi ricordo si era unito per condannare quella vignetta e l'autore della vignetta era stato licenziato tuttavia il razzismo stava nel fatto che anche solo qualcuno avesse potuto pensare di pubblicarla in primis pure il direttore del giornale avrebbe dovuto essere rimosso non so se abbia subito conseguenze quindi mi sento di dire questo posto che vi ho già detto mille volte che sicuramente il problema di Meghan non è il razzismo comunque non è quello il motivo per cui è stata cacciata e gli amici di Meghan e quindi Meghan in realtà perché lei usa le persone che le stanno attorno per lanciare messaggi lanciano una minaccia cioè se la loro richiesta non verranno accolte in un certo senso lasciano proprio intendere Meghan farà una mega intervista in cui denuncerà la famiglia reale come razzista che poi è quello che ha fatto nell'intervista di Oprah e no questa cosa comunque non piace per niente Tom Bradby che è questo giornalista che poi ha intervistato di recente Harry dopo l'uscita di Spare che mi sembra che abbia cambiato molto idea su di lui ma allora diceva sì questa minaccia sembra che ci sia davvero e non sarà una cosa bella un bello spettacolo se succederà Tom Bradby allora era assolutamente pro Harry condannava William per aver spinto Harry lontano dalla famiglia reale diceva che Cambridge erano stati snob fin dalla prima volta che avevano conosciuto Kate l'avevano sabotata snobbata fin da principio e quindi Harry e Meghan erano scappati dal palazzo perché si trattava di un contesto velenoso questo giornalista sposava appieno la tesi di Harry e Meghan ribadisco andate a guardarvi l'intervista che Harry ha lasciato a questo giornalista alla ITV poco prima della dell'uscita di Spare ne ho parlato anch'io ne ho fatto un video il giornalista rimane basito perché lui ci credeva a queste cose e poi come un giorno giornalista ha chiesto a Harry scusami ma voi avete accusato la famiglia reale di razzismo e Harry no non è vero non siamo stati noi sono stati i media e il tizio rights ok li vede che si arrampicano sugli specchi secondo me ha cambiato idea non ha avuto modo di cercare articoli ma secondo me ha cambiato idea o quantomeno se n'è stato zitto e ha smesso di sostenerli spero a guardare alla sua faccia sembrava proprio che avesse ribaltato le sue convinzioni la famiglia reale non si lascia spaventare da questa minaccia di Meghan andrò a dire che siete razzisti anche se persino scrittori eminenti come Philip Pullman che no non è un uomo di colore non lo so va a dire che sulla stampa che Meghan è stata allontanata solo perché è nera anche un parlamentare di colore britannico dice sì la Maxit è colpa del razzismo strutturale che esiste nella società britannica vi dicevo la famiglia reale non si lascia influenzare da questa presa di posizione di alcune persone che comunque potrebbe spaventarli no? oddio ci stanno dicendo dei razzisti forse dobbiamo stare ad ascoltare può essere che sia un po' perché Carlo e William ma anche la regina da tempo hanno imparato che la stampa insomma è ballerina e passeggera bisogna ascoltarla fino a un certo punto hanno capito anche che se avessero ceduto poi sarebbe stato pezzo e non reagiscono bene alla minaccia non hanno alcuna intenzione di cedere sulle proprie posizioni non vogliono condividere con i Sussex la gestione della monarchia l'idea di cercare qualunque compromesso viene esclusa anche perché penso soprattutto Carlo e William hanno capito benissimo come era fatta Megan cioè che era una persona che ti metteva alla berlina appena si sentiva insultata da te ma secondo criteri suoi che è una che non si frena non si autocensurerà in un modo non non vede dei limiti da non superare per lei se si sente abbastanza ferita supera qualunque limite per lei il modo in cui viene colpita merita una risposta dieci volte più forte e soprattutto li considera ormai dei nemici l'hanno capita che non si sarebbe controllata e che quindi se avessero acceduto a questo ricatto sarebbero stati in pugno suo per sempre e hanno capito anche che è una donna per cui è naturale rompere i rapporti con gli amici con le persone nel momento in cui passano dalla parte sbagliata della sua considerazione spezzare i ponti con la gente è naturale per lei e quindi no non si negozia con questa donna però ci dice a Tom Bauer la regina volle essere giusta e lei personalmente convince Harry e Meghan ad accettare un periodo di prova in cui dividersi tra Gran Bretagna e Canada ritardiamo un attimo questo divorzio e anche questo mi sembra una mossa saggia cioè magari adesso siamo tutte arrabbiati aspettiamo proviamo a vedere come va la cosa Harry accetta però ribadisce anche che non non cambierò idea per lui adesso che se ne stanno andando di fatto è come se se ne stessero andando per sempre e l'accordo di Sandrigam in effetti prevedeva questi punti i Sussex non sarebbero stati più membri attivi della famiglia reale come è effettivamente successo avrebbero perso i titoli di HRH ovvero his royal likeness or her royal likeness ovvero altezze reali Harry sarebbe stato spogliato di tutti i titoli militari compreso quello di capitano generale dei marines reali Meghan avrebbe perso qualunque ruolo nelle fondazioni legate al Commonwealth avrebbero dovuto ripagare i 2,4 milioni di sterolini spesi per la ristrutturazione di Frogmore Cottage avviata secondo le loro direttive in effetti pare che poi li abbiano ripagati e avrebbero perso il supporto finanziario della famiglia reale in questo caso di Carlo dopo un anno quindi ti do altri 1,5 milioni e poi ciao te la cavi da solo Harry al tempo provò a dire che lui e Meghan non avrebbero usato i loro titoli per fare soldi è che questo che non si rende conto lui e lui è e rimarrà un principe e se parli di te in realtà stai parlando non di Harry Mountbatten stai parlando di Harry Windsor e soprattutto se parli delle tue esperienze stai parlando della famiglia reale l'unica cosa su cui sembrano d'accordo nonostante tutto sia Harry che la famiglia reale è dimostrarsi concilianti in pubblico cioè di non dire in giro che hanno litigato è una cosa che Harry si era mangiato completamente perché se non sbaglio è allora che uscì il comunicato secondo cui Harry e William in realtà non stavano litigando andavano sempre d'accordo e poi Harry ha ben pensato di scrivere spera hanno detto che ho fermato io quel comunicato ma non è vero in realtà sì che stavamo litigando sostanzialmente ha detto questo quindi no poi la regina aggiunge al comunicato ufficiale in cui si dice che cosa succederà a Harry e Meghan e sono termini duri durissimi aggiunge un messaggio come regina e adesso vi faccio vedere anche questo perché capiate eccolo la regina non si sa se di suo pugno o redatto da un segretario privato fatto sta che lei lo certifica dice questo a seguito di molti mesi di conversazioni e di discussioni più recenti ho il piacere di comunicare che insieme abbiamo trovato un modo costruttivo per supportare il percorso in avanti di mio nipote e della sua famiglia Harry Meghan e Archie sono e saranno sempre membri molto amati della mia famiglia analizziamo un attimo come PR questo discorso questo ripetere due volte famiglia è per dare un senso personale a queste parole per cercare di sdrammatizzare la durezza del resto del comunicato ah gli abbiamo tolto il titolo di altezze reali abbiamo spogliato mia nipote dei titoli militari è come se la regina stesse cercando di dire allora questo è il palazzo quello che devo fare per il palazzo questa invece sono io come nonna e è stato comunque una un'idea intelligente la regina poi diceva riconosco le sfide che hanno affrontato come risultato di un intenso scrutinio negli ultimi due anni e supporto il loro desiderio di avere una vita più indipendente voglio ringraziarli per il loro per come si sono dedicati al loro lavoro in questo paese nel commonwealth e oltre e sono particolarmente orgogliosa di come Meghan si sia diventata così in fretta un membro della famiglia di nuovo famiglia è speranza di tutta la famiglia quarta volta che l'accordo di oggi permetta loro di costruire una nuova vita felice e pazifica analizziamo un attimo nel dettaglio cosa vuol dire tutto questo perché in realtà se si legge bene c'è mini frecciate ovvero da una parte c'è una posizione molto conciliatoria nel senso che io riconosco che per loro non è stato facile e questo io non penso davvero non penso che lei lo pensasse davvero cioè che o poverini hanno sopportato quanto nessuno di noi ha mai sopportato cioè lei l'ha visto molto bene non le fregava niente vabbè era più giovane ma di come di tutto quello che aveva subito Diana figurarsi se le frega di quello che ha subito non tanto Harry quanto Meghan però lo deve dire perché se no sembra che li stia semplicemente attaccando si mette dalla parte della cattiva se non era lei sicuramente è stata consigliata di dire queste cose e inoltre appunto dicono di nuovo so che hanno lavorato tanto non è vero secondo me non lo pensava però intanto lo dice e poi la cosa che mi fa più ridere sono orgogliosa di quanto Meghan sia diventata velocemente un membro della famiglia è tutto per togliere argomentazioni a Meghan a Meghan che sarebbe andata in giro a dire che non l'avevano trattata bene è un comunicato del genere è un comunicato così personale da parte della regina che in genere si teneva i suoi sentimenti per sé era molto forte però allo stesso tempo le due frecciate sono queste io riconosco e condivido il loro desiderio di una vita più indipendente nel senso andate fuori dai piedi siate indipendenti prego sì andate e inoltre è desiderio di tutta la famiglia diceva alla fine che l'accordo di oggi permette a loro di costruire una vita serena e pacifica nuova new life e il nuovo è tanto importante perché per dire diversa di nuovo da questa quindi di nuovo fuori dai piedi lontano una vita completamente diversa è un modo per dire ok ok sì è vero è stato difficile per voi eccetera ora lo volete cominciare questo nuovo capitolo poi leggerò i vostri i vostri commenti in merito Silvana per esempio dice una sorta di buona uscita con liquidazione sostanzialmente sì e Harry torna quindi in Canada sapendo che Meghan è arrabbiatissima perché lei voleva qualcosa di diverso però pure lui è deluso dall'ostilità che gli hanno dimostrato Carlo, William e pure Kate ci dice Tom Bauer prova a telefonare agli ufficiali di palazzo per sfogarsi a quella che era la sua squadra però loro non sono mica tanto contenti con lui anche perché lui se n'è andato non è più un working royal member un membro attivo della famiglia reale e quindi loro sono stati licenziati perché non c'è più bisogno di un team per Harry e Meghan in Inghilterra quindi figurati se sono dalla sua parte e inoltre la conoscono bene Meghan a seguito di questa cosa così in emergenza ha organizzato forse il giorno stesso il giorno dopo in tutta fretta un incontro in una casa per donne in difficoltà probabilmente vittime di violenza qualcosa di simile o povere a Vancouver e si è fatta vedere per un servizio fotografico tutto ciò vi ricorda qualcosa non è forse quello che ha fatto anche quando è saltata fuori la notizia che Carlo aveva tolto loro completamente Frogmore Cottage e da allora l'avete più vista fotografata in qualche altro bel centro per mamme povere no è piuttosto costruttivo non costruttivo perdonatemi costruito come operazione sostanzialmente di marketing di se stessa e quindi gli ufficiali di palazzo quelli che erano stati al servizio di Harry e Meghan non hanno alcuna intenzione vedono che cosa vogliono fare questi due qui e quindi non sono dalla loro parte e Harry e Meghan tutti e due ci dice Tom Bauer sono convinti che il palazzo sia popolato da vipere che meritano di essere punite e quindi da lì poi tutto i piani che hanno messo in atto a febbraio quindi poco dopo si viene a sapere a palazzo che Meghan sta cercando casa a Malibu in California loro non sono stupiti per nulla anche perché lei aveva già detto che insomma avrebbe sempre desiderato una casa in riva al mare figurarsi Harry in realtà dice ci dice Tom Bauer che in quel periodo stava telefonando un ufficiale canadese per ringraziarli della loro ospitalità perché loro lì si trovavano benissimo e quindi pare che in realtà è la sensazione che si è avuta che lui fosse convinto che sarebbero rimaste vivere in Canada invece lei aveva già deciso se voi ascoltate la ricostruzione dei fatti è successo che loro sono andati a vivere che è stato loro tirato via la scorta canadese e poi sono andati a vivere da Tyler Perry durante il periodo insomma della quarantena da pandemia secondo i Sussex la ricostruzione loro è questa sarebbero rimasti per sempre in Canada se non gli fosse stato detto che presto avrebbero perso la sicurezza Harry di questo ha parlato un sacco in Spear e Tom Bauer dice ma esattamente da cosa doveva essere protetto dalla stampa ecco qui in questo punto qui Tom Bauer si sbaglia o meglio non poteva sapere fino a che punto Harry fosse paranoico salta fuori da Spear sì Harry aveva davvero paura per la sua famiglia in Canada anche se effettivamente non c'era qualcuno che volesse fare loro del male o almeno per come la vediamo noi ma no lui aveva davvero paura non se la stava inventando non era una versione costruita per cercare una scusa almeno Harry aveva paura Meghan secondo me molto meno comunque rimane incoerente senza dubbio Tom Bauer ci dice ok hai paura di essere poco al sicuro lì in quella villa remota in Canada allora Los Angeles ti pare il posto in cui troverai privacy e tranquillità non pare e infatti anche Harry manco lui se lo sa spiegare davvero se andate a vedere da docuserie ah sì semplicemente perché sono finiti nella casa di Tyler Perry quanto è bello qui allora sì trasferiamoci qua tra tutti i posti del mondo alla fine anche Harry comunque fa le cose per soldi perché in quel periodo viene invitato a un evento organizzato dalla JP Morgan da Gayle King che è questa giornalista amica di Oprah che lo invita ad andare a questo evento a parlare sempre della salute mentale delle sue ferite insomma emotive personali e lo pagheranno un milione di dollari fate il confronto un milione di dollari considerando che prima in tutto l'anno da suo papà lui prendeva un milione e mezzo di sterline ok siamo circa solo un milione e ottocento con una sola ospitata un milione figuratevi se anche lui non ha fatto i suoi conti e li ha fatti c'è da dire lui si giustifica pensando devo pagare i sei milioni della sicurezza quindi sì aveva bisogno di denaro stava persino organizzando dopo questa prima piazzata un tour di chiacchierate in cui sarebbe stato pagato 500 mila a volta almeno e il palazzo gli ufficiali e i reali sono basiti cioè avevi detto che non volevi monetizzare il tuo status reale e alla fine invece lo stai facendo e come era proprio questo che temevamo lui direbbe di no e infatti lo minacciano basta nel senso che entro il 31 marzo dovete chiudere il brand Sussex Royal anche la pagina Instagram Sussex Royal cioè parlate con altre voci non vi chiamate Royal e in effetti sei settimane dopo quel momento Harry e Meghan annunciano ufficialmente il passo indietro insomma e i canadesi appunto ritirano immediatamente la loro protezione ed è quel momento che loro devono fuggire in un qualche modo braccati e Harry nella sua dichiarazione pubblica dice eravamo eccitati pieni di speranza eravamo qui per servire perciò sono molto triste che si sia arrivati a questo negano in quel momento che faranno mai un'intervista con Oprah si è visto quanto poi era vero ecco e praticamente il palazzo ha detto non potete più usare la parola Royal ed è qui la mancanza di rispetto di cui vi parlavo a inizio video perché loro dicono va bene non lo usiamo più la parola Sussex Royal loro volevano creare la loro fondazione di carità quella che adesso la loro foundation quella che adesso hanno chiamato Archwell volevano che si chiamasse l'inizio Sussex Royal e non l'hanno fatto solo perché la corona l'ha proibito perché di fatto è come se parlassi a nome dei reali e non si tratta solo dell'istituzione della corona parli a nome in un certo senso degli inglesi e quindi no non puoi farlo e gli hanno anche proibito di usare appunto il brand Sussex Royal come merchandising e loro dicono e vabbè avevamo registrato quel brand lì per il trademark solo per sicurezza perché non volevamo che altri ce la portassero via sì sì la mancanza di rispetto arriva a questo punto loro consigliati dai loro legali dicono anche se sì noi smetteremo di usarlo però la regina la regina dicono proprio così non ha alcuna giurisdizione oltreoceano sulla parola reale qui bisogna sempre leggere non tanto le dichiarazioni quelle un po' più specifiche ma le condizioni gli esse le frecciatine questa è una frecciata bastarda cioè loro stanno dicendo e mi ricordo che al tempo fece notizia me l'ero quasi dimenticata chi sei tu per dirci che non possiamo definirci reali infatti gli avvocati dissero al tempo cioè appunto la regina non può dire loro che in America non possono usare la parola reale con quale diritto legale nessuno e Harry è reale è sesto in linea di successione è nato principe sì che è reale quindi se loro volessero potrebbero e in effetti non l'hanno non hanno fatto marketing su questa parola qui però sono ben felice appunto di farsi chiamare ancora duca e duchessa di Sussex forse non insistono su questo aspetto solo per non tagliare completamente i ponti con Carlo soprattutto con Carlo più che con William intendo questo potrebbe essere il volere di Harry ma anche solo fare questa nota dire eh ma la regina non ha il potere di proibircelo cioè no l'intera monarchia per quanto io senta molte persone dire il contrario l'intera monarchia per com'è oggi l'intera monarchia inglese ovviamente si basa sulla figura della regina voglio chiarire la mia posizione in merito perché magari non è molto chiara ma io nonostante parli di Harry e Meghan che hanno mancato di rispetto alla monarchia non penso che la monarchia sia un'istituzione da rispettare in sé perché è secolare eccetera no è un'istituzione datata che ha un senso fino a che viene rappresentata da persone che si dimostrano degne nel bene e nel male perché male c'è stato tipo la gestione della faccenda di Anna la regina ha meritato il rispetto per il modo in cui ha gestito adesso vediamo se lo meriterà Carlo la monarchia in sé ha zero valore se non sono i cittadini britannici a dar valore a questa istituzione qui per questo in realtà tanti dettagli io ad esempio ho fatto un tiktok in cui dicevo che adesso Carlo insiste perché non insiste insomma ha fatto sì che sua moglie si chiamasse regina molti mi hanno detto ok ma in realtà anche la moglie dell'ultimo re si chiamava regina sì stiamo parlando del 1940 è passato non un secolo intendo mentale oggi è tutto cambiato in realtà se lui avesse voluto essere un pochino più rispettoso nei confronti di sua madre avrebbe detto però potete pure chiamarla regina consorte invece no regina che era poi quello che insomma la regina aveva detto che Camilla si doveva chiamare regina consorte forse intendeva che comunque si poteva anche chiamare regina sì però sapete conta non tanto il titolo nei documenti ufficiali ma nei giornali nei media c'è un motivo se quel titolo il titolo di regina ha valore perché era Elisabetta molte persone infatti hanno detto io non la chiamerò mai regina Camilla intendono potrebbero chiamare Kate ma perché si tratta di meritarsi quel titolo e Harry che cosa aveva fatto per meritarsi adesso il titolo di reale sì lo è forse alcuni di voi diranno ma è nato il reale in parte è vero dicevo che la sua è stata una vita cresciuta in gabbia che non non gli invidio sicuramente però da un certo momento in poi ha esagerato come dimostrato qui molte persone in Inghilterra non lo potevano più vedere e pare che abbiano anche lasciato intendere che nonostante appunto la regina avesse detto no non potete più lavorare per me ma loro preferiscono continuare a servire e rappresentare la sua maestra la regina avevano detto non so se in questa occasione o in un'altra ci sono molti modi di servire ti stanno dicendo che non vogliono che tu li rappresenti chi sei tu per dire che tu li rappresenti comunque perché questi avevano detto ci sono molti modi di servire Entitled Entitled significa gente che si sente legittimata perché sì Meghan perché adesso io sono duchesse e l'altra io sono nato principe allora adesso decido io come esserlo non ha capito niente Harry della monarchia in questo momento Meghan posto che il marchio Archwell era già stato registrato decide di cambiare il nome della fondazione che avrebbero creato da Susseth Royal ad Archwell inizia a cercare un direttore per questa entità e il palazzo sta a guardare certo che Meghan stia per fare le sue mosse finali e adesso vediamo finalmente passo alla chat che cosa ne state pensando parto dall'inizio ok risaluto tutti quanti e allora Maria Rosaria diceva Harry e Meghan fanno i capricci come i bambini quando non ottengono quello che vogliono Claudia diceva una cognata che mi ricorda tanto Meghan Silvana diceva chissà come andrà a finire ormai la scalata è terminata chi c'è migliore di un principe un miliardario infatti Meghan stava adesso puntando a quel tipo di gente Alessia dice perché la povera Meghan non conosceva affatto le consuetudine della cultura della royal family essendo vissuta in una capsula fino ad allora non so se sei sarcastica mi sembra di sì e sì poi lo capisco da altri commenti si è sarcastica dicevi uno stagista qualsiasi Claudia dice ho letto che potevano tenere Frogmore Cottage se avessero riconfermato il contratto d'affitto in pratica sono stati loro a rinunciare alla casa per non pagare l'affitto sì perché volevano gratis e Carlo aveva già deciso che quella casa l'avrebbe data al fratello Andrea ma non come regalo anzi era un downgrade perché Andrea veniva da una residenza molto più importante non so se si sia già spostato so che era quella l'intenzione Pirna dice ma adesso dice riferendosi ad Harry se non rappresenta più la famiglia reale può fare il lavoro che vuole sì esatto ma non è capace di fare nessun lavoro ora un po' perché comunque sarebbe difficile per lui trovare un lavoro ordinario ma vi ricordo che non ha nessuna istruzione superiore se non quella del soldato a scuola non era bravo cos'altro può fare se non lavoro di rappresentanza in un qualche modo Letizia diceva non sapeva reinventarsi ah Harry poteva chiedere a sua moglie lei è un'esperta l'ha fatto una ventina di volte nella vita hai ragionissimo anche tu Meghan si è riciclata 40.000 volte Camilla diceva Silvana la talpa di corte Julie diceva in un certo senso la regina ha sbagliato a concedere tutto a Harry poi tutti gli altri che cercavano di mettere i dei freni sembrano cattivi sì esatto a volte quando si cerca di essere buoni si vizia la gente e questo è il problema che poi quando vizi troppo non apprezzano quello che hanno perché pensano che sia dovuto e non lo fanno con una cattiveria in città è proprio perché si sentono privati di una cosa che hanno sempre avuto e non comprendono che devono fare qualcosa per guadagnarsela se prima gliela davi gratis o comunque senza volere niente in cambio neanche un minimo sforzo questa è una mia filosofia generale Ellie dice la Lilibet amava tantissimo Harry ma amava di più la monarchia ha fatto di tutto per farla sopravvivere resistendo alla tempesta in seguito alla morte di Diana non si sarebbe piegata nemmeno per il suo nipote preferito il dovere veniva prima di tutto per lei sì è vero ciao Marzia ciao Frappi ciao anche agli altri che non ho nominato Mickey dice la prima volta che riesco a scriverti in live oh ciao spero che tu sia ancora online grazie per avermi iscritto ciao Viviana certo diceva Michela volevano proprio fare tanto i diversi ma ad oggi sono proprio loro che si aggrappano ad ogni bricio alla loro disposizione pur di rimanere aggrappate le situazioni dalla quale volevano fuggire Viviana dice che ha appena letto tre articoli in cui uno dice che Kate è incinta e verrà ufficializzata la gravidanza il 6 maggio ah sì no quest'ultima cosa non l'ho letta e dubito cioè se l'hai letto più di un giorno fa non l'ho letto io da nessuna parte un altro diceva che Meghan è incinta e lo dirà all'incoronazione no no e lascia stare queste cose guardate comunque il tipo di giornale che è se sono giornali minori non date per vere queste notizie giornaletti che stanno solo online perché lo fanno per ottenere click a prescindere dal fatto che sia vero o meno nel momento in cui voi avete cliccato gli avete già dato un motivo per continuare a dire queste cose Viviana dice lo stesso articolo diceva che si aspettava che Meghan e Harry lo dicessero a San Valentino quindi boh sì esatto no no non c'è niente di veritiero poi possono sempre dire ah non l'hanno annunciato perché ha perso il bambino ciao Elisa Mickey dice che sta leggendo il libro di Tom Bauer dopo aver visto l'intervista Pietà con Oprah dopo aver visto il Netflix col vergognoso docustore per finire con Sper la classica celigina sulla torta ti stai documentando bravissima a questo proposito vi invito se vi piacciono queste mie dirette se volete sostenermi ho finalmente ottenuto la mia prima collaborazione online con il servizio Bookbit che è un servizio di audiolibri e ho scoperto che all'interno di questo servizio c'è l'audiolibro di Sper ovviamente in inglese ci sono tanti altri libri comunque se vi iscrivete dal link presente nella descrizione del video voi ottenete col mio codice Elfedre60 guardate come è scritto lì 60 giorni di ascolto gratis per provarlo così grazie a questa collaborazione se vi va poi vedrò di consigliare altri libri che trovo interessanti mi stavo ascoltando Sper a letto con questo bellissimo accento britannico e quindi mi aiuterà anche col mio Viviana diceva infine il terzo articolo diceva che l'amante di William aveva concepito da lui una coppia di gemelli sì ho cercato di metterlo anche qui su YouTube come shorts ma me l'ha cassato perché avevo usato una canzone di Miley Cyrus su TikTok e YouTube subito con il reclamo per copyright sì dai questa è una cavolata immensa e so il giornale era di lei Harry no William sarebbe il padre dei due figli dell'amante di dell'amante Rose Hambory ma dai no dai impossibile impossibile Maria Rosaria è convinta che Megan ci riserverà una sorpresa il 6 maggio io avrei deciso una cosa vorrei fare una diretta il 6 maggio però siccome penso che per la maggior parte cioè sarò lì a guardare e quindi non potrò certo avere la parlantina che ho normalmente qui vorrei farla su TikTok quindi mi raccomando seguitemi anche lì su TikTok perché il 6 maggio farò la diretta lì poi farò un riassunto magari la sera guardiamo questa cosa voglio vedere ogni singola espressione di Harry ho letto il libro Sperdice Lisa Giacometti e sto leggendo il libro di Tom Bauer sì Megan sta vivendo sulla schiena dei suoi figli o perché il discorso dei principi da piccoli sono poveracci ecco perché il discorso dei principi da piccoli sono poveracci sì esatto anche se Harry divorziasse da lei lei sarebbe sempre la madre di due principi Merisana diceva ho letto un commento sul fatto che dopo la debacle di Spare e il tonfo di popolarità Megan stia cercando di sanare la frattura almeno in parte col pretesto dei figli pur senza tornare in UK possibile non si sa Letizia dice Robert Yopson sostiene che la regina avrebbe fatto controllare la stanza The Summit per eventuali microfoni nascosti e che può obbiasimarla il libro di Robert Yopson è un altro che voglio raccontarvi però probabilmente siccome alla fine si parla sempre degli stessi avvenimenti non sarebbe un racconto come questo magari anche solo un unico video ditemi se volete che revisione anche quello il libro di Robert Yopson Jobson o Yopson è uscito qualche giorno fa solamente e il 13 aprile credo in realtà è entrato su Carlo però ovviamente parla anche di Harry Meghan alla fine dice Mickey è come la sua famiglia monetizia qualsiasi cosa in qualsiasi occasione Maria Rosaria diceva che quando è morta la regina si sospettava che Harry e Meghan nascondessero dei microfoni ho visto dei video in cui si vedeva che lei aveva un rigonfiamento sulla spalla sapete quella quell'audio che dice no one is gonna know they are gonna know nobody is gonna know cioè nessuno la saprà mai ma e facciano vedere diversi video fotogrammi in cui lei aveva rigonfiamenti strani possibile pichessa dice è il mio figlio di 16 anni è pro Meghan mi sa che la diseredo è normale penso in un'età adolescenziale essere sentirsi più affine a una persona che si pone contro il sistema perché a 16 anni ci si sente esattamente o da adolescenti ci si sente esattamente come Harry e Meghan cioè incompresi dal mondo e si pensa che la cosa più giusta sia quella di spezzare il sistema poi quando si cresce si cambia un po' idea dico può darsi che non siete d'accordo con Harry e Meghan anche a prescindere dalla vostra età però non trovo strano che un adolescente si metta dalla parte di Harry e Meghan mai diceva buona serata a tutti come stanno oggi Harry e Meghan tradiscono la regina Merisana dice la vignetta sinistra era stupenda con Harry e Meghan poracci anche George ha subito bullismo dalla stampa da quando è nato dice Merisana si sa che certe cose becere le fanno anche quando hanno commentato il fatto che il bambino piaceva il balletto ah sì qualcosina sì beh non a livello di quello che è stato detto Archie quella volta lì però sì alla fine la famiglia reale è sempre un bersaglio Alessia diceva la povera cocca riferendosi a Meghan non conosceva il passato coloniale della royal family certo come no il mondo degli unicorni May diceva la giustifico in questo caso è americana la storia al di fuori dei loro confini è sconosciuta verissimo vi faccio un mini excursus ho visto un video di una che diceva guardate che ci sono questi ricordi condivisi che condividiamo tutti quanti che sono sbagliati in realtà e ve lo dimostro e dava fatti storici tipo sapete che in realtà noi come specie siamo più vicini al tirannosauro di quanto il tirannosauro non sia più vicino allo stegosauro insomma perché sono esistiti in epoche diverse e io pensavo ma io lo sapevo e poi diceva anche altre cavolate non cavolate verità però che potevi non saperle solo se non avevi studiato un po' di storia alle elementari e ho avuto il piacere di scrivere con la mia educazione gratuita dalla scuola statale italiana queste cose le sapevo non mi stupiscono solo voi americani siete stupiti si sta diventando uno scherzo ricorrente il fatto che gli americani in storia siano proprio capre dire che comunque Meghan al contrario di Harry un'istruzione superiore ce l'ha è stata si è laureata non so se con penso con un bachelor degree solamente quindi una roba corrispondente ai nostri tre anni di università comunque la Northwestern University non mi ricordo in che cosa forse in relazioni pubbliche potrei sbagliarmi ok però una laurea ce l'ha ma se erano così razzisti dice Virna con lei perché la regina gli ha concesso il permesso di sposarla sì esatto che razzismo le hanno anche dato una mega mega matrimonio dove le hanno permesso persino di invitare facendo fare una figuraccia a tutti il pastore della sua non religione però insomma un pastore che piacesse a lei che ha fatto un sermone all'intero paese di 14 minuti che era una piazzata americana gliel'hanno gli hanno concesso un mucchio di cose ma Megan è stata al college diceva Alessia è dubito essendo stati confinanti che non conoscono la storia del Canada quantomeno nei suoi rudimenti la Lily Bette diceva Ellie ha imparato con Diana non avrebbe permesso a Megan di metterla in ginocchio hai ragione anche tu aveva capito che al tempo aveva fatto degli errori perché l'intero pianeta momenti la odiava la vedevano come la cattivona contro questa povera principessa che alla fine era finita nella tomba mentre lei era ancora lì viva e nemmeno mostrava cordoio e quindi adesso ha capito che c'era un allora è stata costretta a imparare questa lezione c'era un'utilità nel mostrarsi più umana di fronte e aprirsi ai suoi sudditi Merisana dice anche Carlo nel supremo discorso dal re ha detto che augurava tutto il meglio negli USA che sarebbero sempre stati i membri amati eccetera sperando che se ne sentessero buoni come no sì 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 cercava di tenerli a bada Francesca diceva lo statement della regina sembra tanto una rivisitazione in chiave diplomatica di un verso di una canzone di Robbie Williams now go away significa ora andate via Merisana dice io ho sempre pensato che inizialmente pensassero di fare un gran successo e soldi appalate poi voi covid e in successo hanno deciso di passare ad interviste libri e docuserie può essere Letizia dice certo che è costruito e Megan stessa a chiamare i paparazzi per farsi fotografare ah sì Bauer diceva che quella volta che lei andò a Vancouver in quel rifugio per donne che erano scappate comunque era furono i suoi agenti a liccare la sua presenza lì e poi Tom Bauer ci dice poi non si è più vista in quel posto Daniela dice Harry come pensava di mantenersi una volta uscito dalla famiglia reale eh lui non pensava di uscire dalla famiglia reale lui pensava che avrebbero continuato a pagarlo perché che male c'era se se ne andava dall'altra parte del mondo a servire la famiglia reale come dove diceva lui Megan per me sapeva già che voleva vendere la royal femmini ma lui lui è uno scemo è uno shock da questo punto di vista o Giulie Cigo ci dice probabilmente Harry pensava che gli americani sarebbero stati tanto felici di averlo da pagare per tenerselo ogni sprazzo di lui dovrebbe valere oro beh Tom Bauer ci dice che in quei primi tempi in effetti lo stavano ricoprendo di oro ospitata per ospitata dice Francesca potremmo fare invitare Harry a pomeriggio 5 verissimo oppure a stare italiane è buona non andare da Nuzzi su rete 4 per parlare della persecuzione della Meg Attera già me la vedo diceva Francesca la nuova salsa bbq Sussex Royals un gusto davvero regale Letizia mi dice l'hai saputo dell'inchiesta francese su Archwell sì due di voi addirittura me l'hanno mandato via Instagram non ho guardato nel dettaglio ma quello che avevo colto in realtà era che non esistono gli uffici di Archwell però è normale che molte fondazioni si appoggino a un studio legale non ci trovo niente di strano inoltre alcuni dicevano soldi spariti ma non è che sono spariti non sono stati usati ancora che ci sta il fatto è che non devo studiare meglio la cosa ma non ci credo molto perché ho visto anche un video di una tizia che non era pro Harry Megan anzi sembrava che volesse proprio studiare la questione lei diceva di fare come lavoro quello di gestire queste fondazioni di carità e di essersi eletta ai bilanci e li ha spiegati ha spiegato voce per voce e diceva l'unico vero problema è che non hanno fatto molto ma non è non ci vedo qualcosa di shady di sporco di nascosto però andrò a guardare un po' meglio dovrebbero andare la vita in diretta dice Merisana ok adesso state facendo state citando tutti i programmi italiani May dice la regina non aveva il potere ma il parlamento inglese aveva il potere di toglierle i titoli sì è vero questo sì il parlamento inglese può farlo appunto perché in realtà il potere della monarchia inglese deriva dai cittadini inglesi per quanto si pensi di no ma questa cosa questo principio è stato stabilito secoli fa quando a un certo punto anzi dal tempi della magna carta ma anche poi quando Cromwell fece cadere la monarchia per qualche anno quindi no in realtà loro non sono monarchi assoluti appunto però per fare questa cosa cioè già il parlamento inglese si sta preoccupando di altre faccende dovrebbero pure perdere tempo per decidere se toglierono i titoli a questi qui cioè preoccupatevene voi dicono loro giustamente Laura Hitz dice il punto è che Meghan e Heron e USA sono semplici cittadini e in UK non sono più royals attivi definirsi royals è fuorviante a questo punto no? sì esatto però loro ci tenevano a fare questa piccola nota legale per in futuro magari cambiare idea o meno ho letto che è Camilla che si è battuta per togliere il consorte diceva Giacomina bello penso anch'io sì probabile Carlo diceva Maria Rosaria è un altro sottone come Harry qualcuno di voi diceva mi sembra che questi due si possano definire in un solo modo che azzari una parola forte però sì adesso si capisce perché dopo tutto diceva Merisana Harry ci è andato un po' più leggero con Carlo perché pensa di lavorarselo e poter far leva su di lui che è re prima che lo faceva con la nonna senza pensare che era anziana ma Carlo non è giovane se tra pochi anni diventa re William se la prenderà con George no beh d'altronde lo possiamo biasimare fino a un certo punto cioè lo si biasima però lo comprendo se lo hanno viziato per tutto il tempo e anche Carlo lo ha viziato si capisce dal suo libro è stato un padre non bravissimo da altri punti di vista però per altre cose gli perdonava tanto e lui è convinto che che un giorno otterrà di nuovo questo e d'altronde vede questo trattamento come una dimostrazione di amore familiare e ora che non glielo danno si sente ferito e sì vedremo oggi tra l'altro ho letto che Robert Jobson o Jobson ha descritto William invece come una persona rancorosa facile a essere un po' i racconto anche e ci credo ok solo che si controlla parecchio e proprio come William come Harry scusate non dimentica e quindi sì Harry farà meglio sperare che il padre a lungo viva se no verrà trattato come Carlo sta trattando adesso Andrea cioè vabbè che Andrea ha combinato quello che ha combinato quindi è il più che giusto però lo sta allontanando gli sta togliendo i soldi gli sta togliendo tutto senza pensarci una seconda volta Giacomino dice molti dicono che William è come il padre invece credo che sia Harry io più leggo questa cosa poi mi leggerò anche quella Our King cioè il nostro re di Robert Jobson ma io sono convinta che Harry somigli tantissimo caratterialmente a Carlo perché anche Carlo era uno che andava da mammina comunque uno che era sottone anche con la mamma che si è sposato una donna che è scelta dalla mamma pur di continuare a essere re anche su questo io continuo a discutere in giro cioè povero Carlo non gli è stato permesso di sposare la donna che amava era un adulto di 30 anni quando ha sposato Diana certo che poteva sposare Camilla bastava che non che accettasse di rinunciare al titolo ha voluto di più la verità è che ha voluto di più la corona che l'amore della sua vita posto che anche Camilla al tempo non era chissà che cosa però c'era già stato un precedente storico un suo antenato Albert era il principe Albert o Albert o Edward mi ricordo quello che si è sposato a Wally Simpson ha rinunciato al trono quando era già re addirittura doveva solo essere incoronato e se l'è sposata almeno era tra l'altro era un nazista ma quantomeno è stato coerente per la donna della sua vita ha rinunciato a tutto ai soldi no tra l'altro infatti nemmeno Harry sarebbe nemmeno Carlo sarebbe stato lasciato nella povertà figuratevi è solo che ha fatto scelte di comodo quindi uguali vogliono tutto anche Carlo narcisista dice Letizia vuole che le cose si facciano come vuole lui vuole avere il controllo allora ci tengo a fare questa precisazione perché mi è stato detto all'inizio a non usare la parola narcisista a caso posto che capisco che c'è un modo colloquiale di usarlo penso almeno io personalmente non ho abbastanza elementi per definire in alcun modo Carlo narcisista può essere prepotente può essere egoista ma queste può essere anche manipolatore volendo ma non sono per forza non è abbastanza per definirlo come narcisista immagino che non lo volessi fare Letizia è solo una mia precisazione Megan secondo me ci sono molti più elementi proprio perché si è mostrata così tanto e per tutto quello che ha fatto Carlo Carlo è un po' più difficile credo che Carlo dice Francesca di questo passo manderà tutto in malora e a William non resterà più una corona alla fine del regno di questo bamboccio invecchiato ma sempre in belle e viziato non lo so dipende dipende spero di no però vabbè alla fine non mi cambia la vita avrò semplicemente una cosa in meno su cui spettacolare William non è un tipo manipolabile dice Letizia Megan ci ha provato ma lui era troppo furbo per cascarci William difficilmente potrà manipolarlo dice Julie lui Harry l'ho capito benissimo e già si rifiuta di parlargli Ellie dice William per me sta cercando di non farsi saltare le coronarie ripetendosi che manca poco e la corona sarà sua probabile e allora farà pagare ad H&M il singolo cappello che gli hanno fatto cadere oddio io pure ritengo di essere una persona un po' intransigente dopo un po' però dimentico dipende dipende cioè non dimentico non dimentico mai però sono disposta a passare oltre per la mia pace mentale però William potrebbe essere diverso non ho letto abbastanza su di lui ed è giusto così sapete perché a prescindere da quanto possiamo leggere su William essendo che lui non ha deciso di mostrarsi in prima persona a noi come Harry non potremmo mai saperlo veramente chi è ed è giusto così anche Carlo la stessa cosa possiamo leggere le sue azioni ma non ha scritto dei diari in cui ci illustra i suoi pensieri intimi più profondi Harry sì Harry lo si può capire molto di più per questo hanno mantenuto la loro privacy quantomeno io li rispetto per questo quantomeno Letizia concorda William toglierà a Harry tutto quanto Sofia dice che per l'incoronazione aspetta di vedere la faccina annoiata del principino lui troppo simpatica sì è vero Harry e Meghan diceva Michela ace the new Edward and Bella Rossella mi suggerisce di leggere il libro sulla famiglia reale courtiers sì l'ho visto in libreria l'altro giorno sarebbe la storia della famiglia reale raccontata dagli ufficiali di palazzo che ne sanno sicuramente una più del diavolo volevo dargli un'occhiata Marco dice ma si sa che ora ci sarà l'incoronazione credo di sì però dovrebbe essere un orario differente qui forse il mattino potrei sbagliarmi completamente però vi dirò dati più precisi quando ci si avvicinerà Silvana dice che il pastore quello americano ha fatto un discorso molto toccante devo dire che dopo un po' smesso di ascoltarlo ma io non sono brava ad ascoltare i sermoni Merisana dice una mia amica mi ha detto che il fratello di suo cognato lavora sulle navi da crociere giuro che molti americani pensano che il Colosseo sia copiato da quello di Las Vegas gli americani non sono ignoranti solo in storia diceva Sonia ma anche in geografia ho avuto che fare con laureati in storia darva almeno preparati da un ragazzo delle medie italiane che tristezza no cioè per quello che stai dicendo Maria Rosaria dice William se la lega al dito Silvana dice William potrebbe essere peggio di come appare tanti sorrisi tante smaccerie ma potrebbe non essere così di larghe vedute vedremo sì assolutamente infatti per esempio io su tiktok ma anche qui ogni tanto riporto la notizia per esempio di William che potrebbe aver tradito Kate io spero di no perché mi piacciono come coppia ma non mi cade un mito se saltasse fuori che è vero perché sia perché è umano non che perdoni il tradimento però insomma tutto può essere magari potrebbe mostrarci una facciata che non corrisponde alla realtà io spero di no però mi aspetto sempre che di avere la sorpresa negativa William ha un'altra moglie diceva Giacomino what? Edoardo ah Edward sì il re che ha abdicato Edoardo lo zia di Elisabetta quindi un esempio molto recente di cui non può non sapere nulla Carlo non può non sapere nulla Carlo beh Harry non sapeva di sua zia Margaret non di sua zia della soprozia Margaret ovvero della sorella della regina a cui non fu permesso di sposare un uovo divorziato un uomo uovo non lo sapeva e infatti nel suo libro diceva che ah sì cioè non sa neanche la storia della sua famiglia a quest'uomo Silvana diceva brava è il Carlo non è narcisista sì no non lo penso penso che sia una persona greta ed egoista questo sì ma probabilmente non sappiamo veramente gli altri suoi difetti William per me si riprenderebbe Harry solo da divorziato e se tornasse con la coda tra le gambe è probabile lo credo anch'io per un tipo allevato nel rispetto della norma non ci sarebbe vendetta migliore ah può darsi può darsi comunque poi ditemi mi raccomando anche secondo voi su chi siete più curiosi che parli in seguito cioè fino a che Harry e Meghan non ci daranno nuovo materiale Carlo o William vi chiederò di votare quale libro devo leggere prima fra Robert Jobson Howard King e magari un altro anche se cercherò di leggerle tutte e due Giacomina diceva intendevo che Kate non è Meghan ah sì che William ha un altro tipo di moglie accanto a sé assolutamente vero ok ragazzi vi ringrazio tantissimo per essere stati con me mi raccomando se apprezzate queste mie dirette vi invito a mettere mi piace al video a condividerlo a iscriverlo nel mio canale per avere tutte le notifiche è gratis se invece volete sostenermi in una maniera più concreta potete abbonarvi potete anche sostenermi senza spendere una lira come dicevo un euro seguendo i metodi indicati nella descrizione del video e poi nei commenti se vi va se vi piace questo tipo di contenuto May mi spinge a parlare di Carlo su di lui c'è tanto su cui si può spettegolare sappiamo solo che Carlo ha le mani sempre gonfie io comunque tinca milla per sempre dice Marco io cioè sul fatto che almeno siano stati leali l'uno all'altro non ci piove il problema è che comunque sono ipocriti a questo che cioè se lui si fosse accorto di aver fatto un errore divorzia da Diana e mettiti pure con questa cosa qui non fare faccio dietro le spalle poi aspetto che lei mi lasci questo è da codarti buonanotte quindi grazie di essere stati con me mi raccomando anche dopo la diretta lasciate pure dei commenti perché voglio sapere che cosa pensate di questa cosa date vita a qualche discussione se avete qualcosa da dire perché non siete d'accordo con me su qualcuna delle idee che ho espresso ci sta e ci vediamo una prossima volta non lo so adesso quando nello specifico oggi siamo giovedì vi dico penso più per lunedì ma nel mentre cercherò magari di fare altri shorts con brevi notizie sulla famiglia reale vediamo magari se ce la faccio prima magari per sabato ma non penso questa è un'anteprima ma io decido sempre le cose spesso in giornata seguitemi anche su tiktok mi raccomando ci vediamo la prossima volta grazie di essere stati con me anche oggi ciao adios grazie a tutti